Siamo qui nella nostra Mixed Zone per commentare questa partita con il mister dell'Empoli, Marco Giampaolo. Una vittoria attesa quattro giornate, è arrivata proprio qui a Udine all'ultimo respiro. Empoli che ha dato continuità comunque a quanto di buono fatto vedere anche contro Milan e Napoli. Sì, sì, una vittoria importante in questo momento del campionato. Perché poi quando sei in fondo alla classifica le partite sono più pesanti. Vittoria conseguita attraverso una certa condotta di gara. Non ci siamo snaturati, abbiamo sofferto nel primo tempo la fisicità, l'aggressività dell'Udinese. Però siamo stati bravi a rimanere uniti e alla fine anche in superiorità numerica molto bene siamo stati avvantaggiati. In uno in più però la squadra ci ha creduto, è ripartita bene secondo te. Empoli che ha trovato superiorità numerica e gol praticamente nella stessa azione e anche ottimi ricambi a centrocampo. È entrato prima Ronaldo molto bene, poi è entrato Paredes, mossa azzeccata ovviamente la sua. Però a centrocampo tanti giovani ma tanta qualità anche per questo tempo. Sì, sì, una squadra giovane. Guardavo la distinta prima della gara. Sono tanti giocatori nati dal 90 in su. Però con qualità. Il fatto di poter disporre di non valide alternative ma di titolare alla stessa strega o di coloro che giocano ci danno la possibilità di poter fornire una prestazione con continuità nei 95 minuti. e Paredes e Ronaldo nella fattispecie sono stati molto bravi. L'ultimissima considerazione la liberiamo sul nuovo stadio. Che impressione le ha fatte? Mi è piaciuto molto. Ma qui le cose le sapete fare per bene, lo so.